Sì, vabbè, uco, un blodo! Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giri di Varole, io sono Biazzacu e io Tatsuno. Ma così, alle otto e mezza nove è arrivata questa cosa, che io stavo tanto bellillo a prendere il caffè, a un certo punto, meno quindici. Quindi, nonostante il procuratore ne avesse chiesti nove, diciamolo, la corte è stata anche più severa rispetto alle decisioni prese dal procuratore. Allora, io partirei dicendo che comunque passare dal possibile meno quattro sul Napoli al meno venticinque è un bel salto, cioè... Devo dire la verità, io sono un lettore avido della Gazzetta dello Sport e la critico spesso perché dice Fandoni, secondo me, però ci aveva azzeccato su una cosa, aveva ragione. Perché io mi ricordo che alla vigilia di Napoli-Juventus loro scrissero, Napoli-Juventus non vale solo tre punti, e infatti... Sono vindici... Però, rimaniamo... cioè, non voglio prendere in giro la Juventus adesso, perché volevo affrontare questo argomento nel modo più serio possibile. Cioè, la stagione della Juventus cambia da così a così, perché... Fino a un'ora fa, c'erano ancora i Juventini che credevano nella lotta a Scudetto, adesso che si fa? Lotta per la Conference League? Sono tornati esattamente dove erano partiti, perché la stagione era partita molto male, loro hanno recuperato in una maniera splendida e si ritrovano così. Però questa non è neanche la più brutta delle notizie, perché la peggiore fra le notizie vuole che... La Juventus si deve aspettare ancora le decisioni prese dalla Corte sul falso in bilancio. Queste sono soltanto le decisioni prese sulle plusvalenze, che ovviamente possono cambiare, anzi no, non possono cambiare. O viene revocata o viene confermata dalla Corte d'Appello. Vabbè, peggio di così, a Serie B, cioè, non c'è... cioè, quale potrebbe essere la Serie B? No, perché alcuni avevano già iniziato a dire, magari glieli abbassano, glieli diminuiscono, però non si può fare. Cioè, la Corte si dovrà esporsi... vabbè, la Juventus sicuramente cercherà di impugnare la sentenza, però... E lo farà, sicuramente... l'unica cosa che potranno fare è o confermarla o revocarla, non potranno abbassarle i punti di penalizzazione. Cosa fa, venno? Tipo Alessandro Borghese, confermiamo il Televulio. Vabbè, capito, è solo l'inizio, quindi è tosta per la Juventus. Sicuramente adesso le partite si giocano in maniera diversa. Eh, ma mo, l'unica chance per la Juve per raggiungere la Champions League è vincere l'Europa League. Cioè, mo, se io fossi l'allenatore della Juve, mi concentrerei soprattutto sull'Europa League. Cioè, sarebbe la prima volta che un'italiana magari si concentra al 100% per portare a casa questa Coppa. Ti dirò di più. Secondo me quel problema è che, nel peggiore dei casi, che io non reputo neanche così tanto improbabili, e mi dispiace per tutti i juventini in ascolto, Il peggiore dei casi, i successivi punti di penalizzazione che potrebbero arrivare per il falso in bilancio, che ovviamente sarebbero molto più gravi rispetto a quelli arrivati per il post valenze fittizie, quelli potrebbero portare direttamente alla retrocessione. Quindi sicuramente se loro vogliono fare qualcosa che va dal di là della salvezza e della metà classifica, devono puntare alle altre competizioni. Tu dici che potrebbero arrivare altri punti di penalizzazione da qui fino alla fine della stagione? No, devono. Cioè nel senso, devono nel senso che comunque si deve valutare se il falso in bilancio è più grave delle plus valenze fittizie. Ok, peraltro c'è stato anche il tema che tutte le altre, adesso non le ci, le possiamo citare al limite, le possiamo andare a prendere, però è inutile, tutte le altre che avevano partecipato a queste plus valenze, non sono state punite allo stesso modo della Juventus, però qui voglio dire anche una cosa, penso che sia normale, perché diciamo che tu, chi viene minacciato, anche se commette un reato, non lo punisci come chi effettivamente si è macchiato del fatto. Hanno preso le multe, quello sì, se tu vai a dare punti di penalizzazione pure a loro, diciamo che era chiaro quale fosse il sistema delle plus valenze, che fossero piuttosto, come dire, costrette queste squadre a sottostare ai voleri della Juventus, quindi inevitabilmente la corte ha deciso così. Però, non lo so, addirittura far dargli subito un'altra penalizzazione di punti da qui fino alla fine, è proprio un accanimento. È a marzo, è a marzo che ci sarà. A marzo? Sì. Cioè a sto punto io rimanderei alla stagione, cioè anche perché se tu gli dai altri punti di penalizzazione la Juventus veramente a far arrivare a zona di retrocessione. Decisamente. Cioè spero per i Juventini che la sentenza arriverà per la stagione prossima, e non questa qua. Perché magari la fanno partire al prossimo campionato con dei punti di penalizzazione. Però almeno resterebbero in Serie A. Se invece glieli tolgono adesso, Serie B, è proprio quasi assicurato. E di chi si prende nel posto poi? Nel Veruna? Eh ma no, cioè a 22. Se poi quella di marzo è ancora più grave come sentenza, perché come dici tu, quella è ancora più grave, cioè che gli possono da 20 punti gli tolgono. Non so, rimanere a due punti. Sì sì, è sicuramente retrocessione in caso di ulteriore penalizzazione. Troppi punti in meno. Ed è per questo che è considerata una stangata questa qua dei 15 punti rispetto ai 9. Però appunto ci dobbiamo vedere cosa dicono sul falso in bilancio. Magari il falso in bilancio non viene dimostrato. Però comunque guardate, lo dico a tutti, che il CDA della Juventus si dimettesse in massa era una cosa strana. Cioè dovevano essersi resi conto della gravità della situazione. Il problema, l'unico problema secondo me è che hanno lasciato la squadra da sola. Perché la squadra è sola in questo momento. La Juventus è squadra che deve fare. Capito? È come lottare per il niente in questo momento. È come lottare avendo una palla al piede di ferro. E tu non puoi andare da nessuna parte. Veramente l'unica cosa che possono fare è competere in Europa e competere in Serie A. Però attenzione, c'è un altro problema. Che la corte nel fare questa sentenza, nel mettere questa sentenza nei confronti della Juventus, ha dichiarato anche che vuole un asprimento da parte della UEFA. Quindi mettiamo caso che la Juventus dovesse vincere l'Europa League. Probabilmente l'anno prossimo la escludono dall'Europa. Sia Champions Europa. Quindi è peggiore dei casi. La Juventus è una prossima. Vabbè, non ridere però. No, non ci viene da ridere. Eh, tu stai ridendo, non ridere. No, mi fa ridere, capito? Che purtroppo la situazione è un po' grave. Ma non ridere. Cioè, ma quindi... Cioè, ma che stavo pensando? Immagina la Juventus vincere l'Europa League, si qualifica la Champions, però poi retrocede. Quasi sarebbe questa in Champions League. Sarebbe una cosa clamorosa. Una cosa alla FIFA, Football Manager. Eh sì. Poi potresti pure... Effettivamente ha pure il piano B, la Juventus, che è meno importante la Champions, però se vinci la Coppa Italia, vai in Europa League... No. Vai in Conference. O in Europa League. Hanno cambiato? Sai che non lo so più. Hanno cambiato? Comunque se hanno cambiato sono degli sciocchi. Ma in Europa League, se non sbaglio, no? È la vincitrice della Conference che va in Europa League. Va in Europa League, sì, sì. No, no, quella della Coppa Italia, sempre in Europa League dovrebbe andare. Meno male, meno male. Eh, che stai? Eh, ragazzi... Sì, sì, è tosta. È tosta. Perché comunque, ti ripeto, secondo me abbiamo un problema grave che... Ma parte della Juventus, parliamo un attimo degli effetti sul campionato. Mh. Perché questo campionato adesso si falsa. Mh. Eh, il secondo girone di ritorno la Juventus non giocherà. Ma no, ma non perché... Cioè, ragazzi, non voglio dire che la Juventus non giocherà per cattiveria. Ma come fai? Cioè, non avranno lo stesso spirito che hanno avuto nelle ultime 15 partite che si sono rialzati e hanno detto No, noi siamo la Juventus, adesso andiamo a dimostrare chi siamo. In teoria... Con quale spirito lo fai? In teoria, però, almeno l'Europa League è raggiungibile. Cioè, alla fine stanno a meno 12 dalla Roma. Sì, sì, ma loro possono fare tutto. Però comunque, capito, che è stancata. Cioè, i giocatori si sono guadagnati tutti questi punti, se li ritrovano quasi dimezzati, e dicono, vabbè, che ci vuoi fare? Il morale potrebbe calare, però di corto muso e con un po' di mazzo, comunque c'hanno... La conferenza ha due punti. Ah, tre punti. Perché l'Udinese sta a 25. Quindi almeno in conference. dovrebbero arrivarci. E poi l'Europa League, conoscendo comunque il campionato che sta facendo Roma e Atalanta. Piano piano, da qui fino alla fine del campionato, qualche punticino riusciranno a mangiucciarlo, e magari riescono proprio ad arrivare in Europa League. La Champions, secondo me, è troppo lontana, anche perché anche Atalanta, Roma e Lazio stanno agli stessi punti, però è destinato ad allungarsi il gruppo Champions League da quello dell'Europa League, come succede sempre, tutti gli anni. Quindi... Se invece dovessero arrivare altri punti di penalizzazione per il falso bilancio... Ah, beh, a quel punto, arrivederci, grazie. A quel punto, date anche una sedia dietro la testa da Allegri, e facciamo cappato tecnico, arrivederci. Purtroppo questa è la situazione. Brutta, brutta. Mi dispiace per tutti i tifosi juventini. Però, io dico una cosa. Tutti quanti stanno esultando, pure io, diciamo, un po' di sorriso mi è venuto, però sempre con rispetto verso la squadra che è stata la più grande italiana degli ultimi dieci anni. Sempre con rispetto. Però adesso... la guardiamo da... da lontano, ecco. A prezzo, eh! Ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate voi con un commento, lasciate un like se il video vi è piaciuto, e noi ci rivediamo in un prossimo video.